Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. In questo video vi farò vedere i miei costume scratch che ho fatto. Non ne sono tantissimi perché non ho realizzato molti costume durante la mia collezione, però vabbè non fa niente. Ne sono soltanto 5, però vi farò vedere lo stesso. Partiamo. Partiamo da lei, che è il costume della giumenta Trackerner. Ok, scusate che le tolgo la coperta, se no non si vede. Ok. Allora, ha una base tutta bianca, con delle sfumature grigie, in alcuni punti. Ha il muso grigio, se mette a fuoco. Vabbè non mette a fuoco, come sempre. Ha gli occhi neri. Il zocco è rimasto con la prima ed è ferrata. Con la chiniere e la coda, le ho lasciate neri, però ho messo il bianco per variare, vedete. Le ho fatto le trecine rosa. Ah, e anche delle macchioline sulla pancia, sulla groppa e sul collo. Niente, non c'è da dire nient'altro. Lei si chiama Venere. L'avete vista anche nel tour. E se la vedete per la prima volta, potete andarla a vedere sul tour della Scudera Sclatch, il primo video, sul mio canale. Ah, sì, se vedete che siamo in una postazione un po' diversa, perché da sotto c'è un casino che non potete mai immaginare. E lei si chiama Venere. Adesso passiamo al prossimo, che è lei. Che è lei invece il costo dell'argumento di sette azzurro. Allora, alcuni di voi che mi seguono da tanto tempo, da tanti mesi, perché ho aperto il canale da circa sette mesi, diranno, ma perché ricompra l'argumento di sette azzurro? Per un motivo, perché praticamente un giorno mi ero portata una cavallerizza azzurra con la sua sella e l'avevo abbinata a un cavallo. Me l'avevo portata dietro. Non so chi me l'ha presa, o chi me l'ha rubata, non so. Ma ho dovuto ricomprare tutto il sette azzurro e ho dovuto fare il costo sia della cavalla sia della sella. La cavalla è molto bella, molto particolare, perché ha questa parte di corpo, dalla spalla fino alla chiappa destra, diciamo, dal posteriore destro. Ha un colore molto scuro, non è molto evidente, però vabbè, perché c'è sta luce che è orrenda. Io anche qui, e ci sono invece dei punti più chiari, quindi sembra quasi un colore bronzo. Poi ha una lista, che è una cosa che mi piace di più, però il riferimento fotografico era figurato un cavallo come una stella, però mi piace più la lista e l'ho fatto la lista. Criniere e coda sono marroni, con delle sfumature, dove ci ho messo anche del bianco. Scusate il suo rumore improvviso, vabbè. E anche qui. Ha quattro balsane, due più piccole e due più lunghe, di cui non l'ho fatta io. Paracolpi invece, paro orecchio, potete chiamare anche cuffietta, è lo stesso. Sono blu o tremare. Il sacco è rimasto uguale a prima ed è ferrata anche lei. E lei si chiama invece Olimpia. E ha il muso nero, che è rimasto uguale a prima anch'esso. Se metto a fuoco. Vabbè, non metto a fuoco. Ok. E ha gli occhi blu, blu cobalto. Non sono molto evidenti perché non si vedono, si sono un po' schiariti, però posso assicurarvi che ce l'ha blu, blu cobalto. E lei si chiama Olimpia. Oltremente è stato azzurro. Adesso passiamo al prossimo, che è lui. Ah, sì, ha la capezza, dopo vi faccio capire il perché. Allora. Allora, lui era un tempo, era lo stallone al 9 e al 7 doccia, che come sapete si chiama Orangio. Voi direte, ma perché l'ha costumizzato? Per tre bellissimi motivi. Il primo motivo era perché si era tutto rovinato da questo lato qua. Qui. Perché, appunto, gli avevo preparato un costume, prima di costumizzare questo cavallo, gli avevo preparato un costume per una serie, che adesso poi è stata rimandata. E allora, siccome si era imprendendo il blu del pennarello qua, allora ho deciso di costumizzarlo. Secondo, perché in pratica era molto simile a un cavallo allo Strata N.S. Walker 2015, che era dello stesso colore, l'unica differenza è che cambiava la razza. Eh, cambiava, sì, cambiava la razza, perché lui è annoveriano, mentre l'altro tenessi Walker. Purtroppo non ce l'ho, però vabbè, non fa niente. Terza, perché volevo riprodurre il cavolo di un libro, che dopo vi faccio vedere. Allora, ha Mastella sulla fronte, un po' bizzarra, però c'era proprio così. Ha un atto di criniera bianca. Ha il muso rosa, che ne l'ho aggiunto oggi, sto particolare, perché mi ero dimenticata di metterglielo. Ha gli zoccoli scuri, anche se in realtà dobbiamo essere chiari, perché non mi ricordavo. come erano, ed è ferrato. Allo stesso nome del cavolo del libro, si chiama Windstorm. Ed è naturalmente Sir, che però, se arriverà dalla sua vera identità, Sir è il suo secondo nome, e si chiama Mika. Ma vi spiego, praticamente, in pratica, questo qui, è il binomio, diciamo, del libro, Liberi nel vento. Io li adoro questi qua, questi qui, questi due, perché sono bellissimi. Madonna, io li adoro. Ah, sì, va bene, la mia bellissima camera, che bello, wow. E niente, lo si chiama Windstorm, dopo alla fine vi faccio vedere il libro. Se li facciamo in tempo, se no, non fa niente. Adesso passiamo al prossimo, che è lui. Che è il puledrino, l'ultimo costume che ho fatto. Allora, lui, invece, è il figlio di Windstorm. Perché, in pratica, io volevo fare sia la giumenta che è il puledro, però, siccome la giumenta non l'ho comprata, e non ho una giumenta noveriana doppiona, allora ho deciso di comprare solo il puledrino, che volevo fare la nuova, però ho fatto Fjord. È tutto marrone, con una macchia sulla pancia, due balzane bianche, i toccoli chiari, e mentre dove il mantello è scuro, ha l'altro colo scuro. Quindi, in pratica, nero. Ha una bella faccia, quindi una lista molto larga, musetto rosa e la criniera l'ho fatta nera, ed è non ferrato, e si chiama ora. Questi sono i cavalli. Poi ci saranno anche la sella, via questa, che è, allora, praticamente è nera, con il sottosella, diciamo, rosa, lilla, verso il viola, comunque, e sotto qua è nera, perché mi sarebbe stricciato, e ho detto, perché non mettere anche il nero, e ho messo il nero. Il mostro, invece, è molto semplice, è tutto nero, con delle parti in barroni, perché mi sarebbe tutto il colore, mentre lo facevo. Purtroppo, questo è il mio costume, e a questo punto, approfitto di questo video, per farvi darvi un paio di notizie. La prima notizia è che la seconda serie uscirà presto, però non fare il trailer. Poi vi volevo dire che che ricomincerò a gareggiare, viva, e se il mio struttore vedrà che il primo giorno che farò le 40, cioè le 40, andrà tutto bene, il giorno dopo mi farà fare anche le 60, quindi sono un po' preoccupata, però spero che quelle gare le 60 non sono a tempo, sono a penalità, quindi non mi devo preoccupare. Un'altra notizia, è che il cavallo che monto al maneggio, quindi litio, ma adesso è diventato mio. Ma in che senso? Nel senso che in pratica, lui è mio, perché in pratica lo monto io, e allora, diciamo, hanno riuscito di darmelo, e quindi io e i miei genitori, paghiamo un mutuo a partire dall'agosto, per mantenerlo, e sono veramente molto contenta di averlo, perché lui è l'amore mio, l'amore di mamma lui. E va bene, questi sono i miei costume, un po' troppo, il video se lo posso allungare, quindi i nuovi video a parti, farò vedere il libro Liberi nel Bento, e leggeremo qualcosa insieme, per me è una novità, perché appunto io l'ho già letto. Questi sono i miei costume, spero che vi siano piaciuti, lasciate un like, e iscrivetevi se non avete ancora fatto, tanti tanti commenti costato, consigli, e i nuovi video che volete che io faccio, se ho tempo, e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!